GFM per me significa famiglia perché permette a tutti di avere sempre qualcuno su cui potersi appoggiare. Ogni giorno è un lavoro nuovo. E che tutti assieme ogni giorno collaborano con passione alla crescita della nostra filiale. Quando si sta a un rapporto di collaborazione, di fiducia e di affidabilità penso che ritengo che questa sia una grande partnership. Se io dico una cosa, se GFM dice una cosa, quella è. Non c'è interpretazione, non c'è qualche cosa dietro o nascosto. È assolutamente trasparente. Contattare il cliente vuol dire rapportarsi col cliente e capire quelle che sono le reali esigenze della clientela. GFM ci ha accompagnato nella crescita reciproca e siamo adesso in grado di considerare GFM non solo un fornitore ma un partner tecnologico. Rispetto è fondamentale. Perché possiamo avere delle opinioni differenti ma se rispettiamo l'opinione dell'altro e troviamo una soluzione insieme. Quindi si lavora molto sulla fiducia e la fiducia porta rispetto. Avere delle risposte sia in caso di problemi sia in caso di sviluppo di nuovi prodotti. Cross to you, vicino a te, vuol dire che prima di tutto noi mettiamo al centro l'individuo, l'essere umano. Io l'interpreto come se qualcuno ti rivolgessi a te e dicesse è fatto per te, è fatto solo esclusivamente per te. L'industria 4.0 è sicuramente il prossimo passo che occorrerà fare per stare al passo con i tempi. In realtà l'industria 4.0 ha diversi aspetti, non si parla solo di tecnologie abilitanti, l'aspetto preponderante è quello di capire le esigenze del cliente. GFM è un buon partner perché la consegna dei prodotti avviene rapidamente, gli oggetti sono versatili e si sposano con quasi tutti i problemi di automazione. In loro abbiamo trovato competenza, collaborazione e soprattutto attenzione ad affrancarci nella soluzione dei nostri problemi. Stare ad ascoltare, perché ascoltando si può ascoltare con le orecchie, ma si può ascoltare anche col cuore un bisogno del cliente e risolverlo. Stare ad ascoltare, perché ascoltare con le orecchie, ma si può ascoltare anche col cuore un bisogno del cliente e risolverlo.